Vi ricordate questi, regà? L'altro anno questi sono stati veramente una rottura di cazzo. Una bella rottura di cazzo. Sono arrivati i secondi, erano sotto a noi a otto punti, mi sembra. Era una bella rottura di palle. Allora, questa partita non la salta nessuno, perché abbiamo preso tutti i sette nella scorsa. Cambiamo magari le magliette. Giochiamo con le magliette Leopardà di grade. Rosi non so perché è mezzo infastidito, non lo so. Gioca tutte le partite. Allora, Puyol diventa titolare. Può fare pure il terzino sinistro. Cassetti, che non è che mi faccia tanto un pazzi, eh? Devo fare Hidalgo per forza perché è un mostro. Arvarez e Boraccio non trova spazio, anche se ce lo portiamo a posto di Menezes, di Chiaga, famo. Perché Menezes pure non trova spazio. Non lo so. Sarà più a lucidità, ma non lo so. Certo. Piove. Mi sono scordato pure a questa, le modifiche ai scappini. Vabbè. Alla prossima. Hidalgo. Bravo Riese. Vuole troppo rossi. Ecco a questi, ragazzi, eh? Sono abbastanza i vichinghi. Vengono dalla Serie D come noi. Quindi cercamo di... E non perde la bravo Mosca. Usciva il pallone, però bravo Mosca. Mosca che ha preso il posto di Tomassuolo nelle ultime cinque partite della scorsa stagione. Grande Mosca. Ma tutto è aperto, eh? Guarda Riese. Guarda Riese come si butta in attacco Riese. E' buona. Per Vigorelli. Se l'è divorato. Se l'è divorato Vigorelli stava facendo veramente un gol pazzesco. La batte Riese. Puta, è mezzo Riese. C'è Rossi che prova. Occhia a Santos. Per Rossi. A giro. Dario. Mamma mia. Di pochissimo. Bravissimo Riese. Mamma mia sta su tutti i palloni. Anche Rossi però non scherza. Santos. Numeri per lui. Il pallone per Riese. Bellissimo per Vigorelli. Prova il sinistro Vigorelli. Il portiere tocca. Il pallone è tra lo stesso. Bravo Vigo di sinistro. Belli pallone Riese. Quota 5. 5 gol e 5 partite Vigo. Decisivo. Devastante. Carriero. Non lo sposti. Perde l'attimo Minieri. Vede forse in ritardo il compagno. Lascia partire il cross. Ancora Vigorelli. Ancora Vigorelli. Che palletta che gli ha messo Italgo. Doppietta di Vigorelli. A 6. 6 gol in 5 partite Vigorelli. Questi li distruggiamo ragazzi. Non è una squadra da serie C. Noi forse siamo da serie B addirittura. Non vedo l'ora di andare in Premier. Quanto saremo cresciuti? Vado. Massa che ha preso quello? Bravissimo. Minieri. Minieri per Santos. Occhio a Vigorelli che quando parte è devastante. Vuole la tripletta Vigorelli. Vigorelli. Il destro. Pain non può fare niente oggi. Vigorelli è distruttivo. Vigorelli è distruttivo oggi. Ogni pallone che tocca è gol. Mamma mia. La messa dentro da pochi passi era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Continuano a regalare grande calcio, gol e non hanno intenzione di fermarsi. Tocco di ritorno. Attenzione adesso. Grappalla. A campo a disposizione. A vuoto. Mamma mia. Gallagher vicinissimo. Era fuori gioco. Cambia tutto bravo. Per Hidalgo. Hidalgo per Santos. Che va giù. Questo è gioco pericoloso. Ragazzi. Carriero. Carriero per Minieri. Non si è sbloccato ancora Valerio. Si sbloccherà. Questo è... Questo è sicuro. Sbaglia il tempo carriero. Gallagher. Dove vuoi andare con John Arne? Dove vuoi andare? Rosi. Buona per Vicorelli. Vicorelli che si destreggia. Tra due avversari. Che cazzo ho fatto? Ma va di liscio Vicorelli. Fa quello che vuole oggi. Si può permettere anche di andare liscio. Hidalgo viene superato benissimo. Bravissimo Rosi. Che intervento. E' buona qui. Vicorelli. Manda il Principe. Il Principe. Il Principe. Per il Capitano Rosi. Rossi scusate. E segna anche lui. 4-0 al primo tempo. Devastante questa GSA. Quota 2 Rossi. Venisce qui. Primo tempo. Io direi di fare entrare qualche... Qualche poco lucido. Tanto il risultato sembra sia al sicuro. Tipo carriero esce. Ti riposi. Entra Punchy. Santos esce. Entra il Varets. E Minieri esce. Minieri esce per primo tempo un po' cosiddetto. Così. Entra Menezes. Proviamo a farlo giocare. Nella sua... Nella sua posizione preferita. Mai fatto giocare. Sempre adattato. E vediamo che cosa ci tirerà fuori dal cilindro. Comunque squadra perfetta. Sotto ogni punto. Sbaglia Riese. Però il pallone c'è la Vicorelli. Vicorelli prova il destro. Che tipi. Abbiamo perso il conto ormai. Ogni tiro è un gol. Un po' di fortuna qui. Non guasta mai. Vicorelli. Di portare a tirare di sinistro. Ma sceglie il destro. Il suo piede preferito. Quota 4 oggi. Primo poker per Vicorelli. C'è una sola squadra in campo. Manci. Non è finita. Non è finita perché Vicorelli ne vuole fare un altro. Vicorelli. Quinto gol oggi. Vicorelli ha fatto il quinto gol oggi, signori. È devastante. A ogni ripartenza siamo devastanti. Siamo veramente devastanti ragazzi. Se continuiamo così il campionato è nostro. Siamo ad agosto. È ancora lunga. Molto lunga. Bravo Manazzo. Nidalgo. Panci. Buono il pallone per Manazzo. È l'obiettivo della dirigenza dell'Inz che ha deciso di scommettere dunque su questo calciatore. È giovane? Ma anche vero che ha già dimostrato di avere lestate. Stimate del predestinato. Io ne ho visti pochi alla sua età fare le stesse cose. Senza considerare... Tutto a posto. Come vede il compagno Panci. Peccato. Vicorelli. Fa quello che vuole. Vuole troppo però. Va giù. Ancora lì c'è. Sbaglia Panci. Io non so più cosa dire ragazzi. Veramente è una prestazione fantastica. È in buona posizione. Questa è un'ora bravo. Difesa avversaria piazzattoria. Correlli per Rossi. Rossi te tacco. Buona l'idea. Oggi ci possiamo permettere anche questo. Vicorelli che recupera il centro campo. Occhia a Rosi Spilanciato Rosi Il tuo cazzo vai Compuyol Buono per Menezes Primo pallone toccato Menezes Prova per Vicorelli Vicorelli Mamma mia Vicino al sesto Vicino al sesto oggi Assurdo Vicorelli sette tiri cinque gol Devastante Manca Ibrahimovic ai tempi dell'Inter Devastante Veramente Ancora lui Occhia a Rosi È partito in progressione Rosi Rosi per il capitano Vai Rosi La butta a mezzo per Vicorelli È il sesto È il sesto oggi Non c'ho più parole E qui possiamo rivedere l'azione del gol Una ripartenza da manuale Che palla Rossi Con una gran botta di controbalzo Gesto tecnico che merita di essere rivisto Siamo nelle fasi finali della gara Le cose non si sono messe Sette a zero fuori casa Risultato non importante Di più Dieci gol già a Vicorelli In cinque partite Ma dove si chiamola Milano ma fa pure un altro Sbaglia tutto però è dalgo Panci Veramente in forma oggi Quando vede Rosso Panci Non ci vede più Finisce qui Io il peggiore del campionato Della partita Non so Non so chi possa essere Pure in quest'altra Non sarta nessuno Perché Siamo stati perfetti Rossi 9.3 Vicorelli 10 Ah ecco Arvarez Arvarez 6.7 La salterà lui 9.1 Ed alco Mamma mia